Ergasto le otto mesi di isolamento diurno e questa è la pena inflitta dalla Corte d'Assise del Tribunale di Nuoro nei confronti di Alberto Cubedo, 22 anni di ozzieri, ritenuto colpevole degli omicidi di Gianluca Monni, 18 anni di oruna e Stefano Masala, 29 anni di nulla. Omicidi commessi tra il 7 e l'8 maggio del 2015. La sentenza è stata pronunciata poco dopo le 17 dal giudice Giorgio Cannas che ha presieduto la Corte d'Assise. Un verdetto che ha accolto totalmente la tese accusatoria formulata dal Pubblico Ministero Andrea Vacca. Una sentenza è arrivata dopo tre giorni di Camera di Consiglio. L'imputato ha assistito agli avvocati Mattia Doneddu e Patrizio Rovelli ha ascoltato in silenzio la lettura della sentenza che ne ha decretato il carcere a vita. In aula anche i familiari di Gianluca Monni e di Stefano Masala. Il padre del giovane di nulla poco prima che Cubedo uscisse dall'aula ha scortato agli agenti della polizia penitenziaria e gli ha urlato in sardo. Adesso restituisci Stefano facendo riferimento al fatto che il corpo del figlio non è stato ancora trovato. Per il duplice omicidio di Monni e Masala è stato condannato a vent'anni con sentenza di secondo grado a Paolo Enrico Pina 19 anni di nulla e minorenne all'epoca dei fatti e cugino di Cubedo. Gianluca Monni venne ucciso mentre si apprestava a serire sul pulma che lo avrebbe condotto a Nuoro dove studiava. Di Stefano Masala invece si sono perse le tracce la sera del 7 maggio. All'origine del delito Monni ci sarebbe la volontà di Pina di vendicarsi per un pestaggio subito a Orune nel corso di Cortes Apertas nel dicembre del 2014. Il giovane di nulla dopo aver importunato alla ragazza la vittima venne allontanato dalla sala da ballo ma vi fece il ritorno con una pistola. Venne quindi disarmato e poi pestato da un gruppo di ragazzi di Orune. Masala invece sarebbe stato ucciso per sottrargli la Opel Corsa poi utilizzata per l'omicidio Monni e attribuirgli la colpa. A Corte d'Assise anche condannata a due anni di reclusione Francesco Pina di Nule, zio di Paolo Enrico, accusato di aver minacciato Alessandro Taras, il super testimone dell'accusa che ha raccontato di aver accompagnato Alberto Cubedo ad incendiare l'auto di Masala.